Amici di Vivi Sportivo, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie dal mondo dello sport. Take Wondo, campionati italiana cadetti. Si è conclusa la prima competizione nazionale del 2022. Il Take Wondo italiano è tornato all'RDS Stadium di Genova, già teatro in passato di importanti campionati nazionali. Quest'anno c'è stato un doppio appuntamento che ha coinvolto gli atleti appartenenti alla fascia cadetti. Oltre all'edizione del 2022 è stata recuperata anche l'edizione del 2021, posticipata a causa della pandemia. Le migliori cinture nere cadette dell'ultimo biennio si sono quindi affrontate e hanno acceso l'entusiasmo e la passione sportiva dei propri sostenitori. Il Take Wondo e lo spettacolo non sono mancati, così come le emozioni di chi questi due giorni meravigliosi è tornato a calcare i quadrati di gara. Inoltre sono scesi in campo i migliori atleti del freestyle nazionale, appartenenti alle classi cadetti, 12-14 anni, solo talent, junior 15-17 anni, senior 1-18-24 anni e senior secondo 25-30 anni e lo hanno fatto in una doppia sfida che segue il classico regolamento del World Take Wondo del freestyle e l'altra in una prova libera per esprimere tutto il proprio potenziale e sprigionare tutta la creatività senza alcun limite. Judo. Karola Paessoni, bronzo a Varsavia. Nella Sport Hall Cos Torvar a Varsavia Karola Paessoni ha conquistato la medaglia di bronzo dei 63 kg nell'European Open in Polonia, l'unica medaglia per l'Italia. MGA. Terminato il corso di formazione terzo livello e riunione fiduciari MGA Fisicam. Tre giorni di intenso lavoro per acquisire il terzo livello MGA. Il centro olimpico Matteo Pellicone ha accolto i tecnici provenienti da tutta Italia che vi hanno soggiornato e hanno potuto seguire in tutta sicurezza le lezioni sui vari e importanti argomenti proposti. La Commissione nazionale, presieduta da Enzo Failla, ha accolto i presenti con i buoni auspici per un futuro di ulteriore crescita e miglioramento. Passiamo al Quanchidò, gare regionali per gli atleti del Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Più di 150 praticanti dell'Unione Italiana Quanchidò, tra adulti, juniores e bambini, si sono messi alla prova e hanno dimostrato coraggio, voglia di mettersi in gioco e determinazione. Una gioia per tutti tornare a vedersi in presenza in un palazzetto dopo due anni di stop per le manifestazioni sportive, per ritrovare amici e tornare a ridere, sudare e sorridere insieme. Siamo giunti al calendario. Sabato 5 marzo si terrà allo spazio reale a De Campi Bisenzio, Firenze, uno stage di Quanchidò dedicato ad adulti e bambini e uno stage di Tam T, ginnastica dolce, e uno stage di Ko Vo Dao, maneggio arbi tradizionali. In questa occasione l'Unione Italiana Quanchidò è lieta di collaborare con la Fondazione Antonino Caponnetto, che da sempre porta avanti la lotta contro l'illegalità e le mafie, attraverso vari strumenti tra i quali spicca la pratica sportiva. Vi aspettiamo numerosi, pronti ad imparare e a stare insieme a tutti i praticanti toscani, amici veraci e dal cuore grande. Difesa personale. Martedì 8 marzo, presso la Scuola di Arti Marziali di Makoto di Trieste, si terrà una lezione libera di difesa personale, aperta a tutte le donne. Per questa settimana è tutto, Vivi Sportivo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Ciao.